Un giro tondo per la salvaguardia dello zoo di Napoli, i dipendenti, membri dell'associazione animalista e i cittadini uniti tutti insieme per mano in difesa degli animali, di chi se ne prende cura da anni. Siamo qua, saremo fino alla fine dei nostri giorni perché questa struttura non si smantelli e questi animali vengono seguiti da noi perché comunque sono animali che sono cresciuti qua, I dipendenti dello zoo non percepiscono lo stipendio da 5 mesi e questo succede anche, ci dicono, per permettere al curatore fallimentare che ne ha in mano la gestione di occuparsi innanzitutto degli animali. Adesso che 300 ospiti dello zoo è arrivato cibo sufficiente almeno per un mese e grazie alla generosità di tutta Italia si spera che l'attenzione si concentri sul futuro di questo bioparco e di chi ne fa parte da sempre. I cittadini e i volontari animalisti e ambientalisti non abbandoneranno né gli animali né i dipendenti di questa struttura. È per questo che la mobilizzazione in favore dello zoo da parte della città e non solo continuerà fino a quando questa storia non si chiuderà con un lieto fine.